Tra i deportati c'è chi ha patito appunto il campo di concentramento suo malgrado solo perché si professava un certo tipo di religione c'è chi invece è finito un campo di concentramento perché ha scelto di lottare contro un regime contro il nazismo e il fascismo è il suo caso cosa spingeva i giovani del 43 a fare quello che lei e altri hanno fatto? Ma c'erano varie motivazioni come sempre è difficile generalizzare c'era chi veniva da una famiglia antifascista c'era chi aveva avuto degli incontri così fortuiti e chi invece come il mio caso era abbastanza giovane appena uscita dalla scuola fascista che non aveva delle idee precise né sul fascismo, sul fascismo quello di cui ci imbottivano a scuola ovviamente sull'antifascismo praticamente niente. Io sono venuta a Roma per lavorare appena finito le magistrali perché avevo dei cugini che vivevano qui da tempo e che hanno pensato di offrirmi la possibilità attraverso conoscenze di venire a lavorare qui in una scuola come segretaria. Io ho accettato subito perché a quell'età avevo anche voglia di uscire dalla famiglia, di avere una prospettiva diversa che non mi figuravo quale potesse essere se non di lavoro. In realtà io volevo uscire dalla famiglia perché avevo una famiglia molto rigida, non direi fascista, mia madre forse aveva qualche ricordo contro i comunisti degli scioperi e quindi in qualche modo tollerava ma in realtà i miei genitori erano ufficiali dell'erezza della salvezza, quindi dei pastori protestanti. Dei pastori protestanti che come sempre in quel momento, forse ancora adesso, allevavano i figli in modo molto rigido, molto amorevole però i figli dovevano essere una testimonianza di quello che i padri andavano dicendo, quindi con un comportamento molto trattenuto. Nero mai andato al cinema per esempio, già il cinema era una cosa un po' così da prendere con le molle. Sono venuta a Roma e sono improvvisamente finita in un ambiente totalmente diverso perché sia i miei cugini che poi gli amici di loro che ho conosciuto in seguito avevano già una formazione, appartenevano a un gruppo di amicizia, alcuni di militanza, dei Lucio Lombardo Radice, Aldo Natoli e altri che erano stati già nelle carceri fasciste con leggi speciali, liberati quasi tutti il 25 luglio dopo il 25 luglio. Così, senza imporre niente, ma offrendomi un'opportunità culturale, diciamo, io ho capito che tutto quello che sapevo era niente rispetto a quello che era successo. Per esempio la prima cosa di cui ho avuto conoscenza era la guerra di Spagna e il ruolo che aveva avuto l'Italia nella guerra di Spagna. Nella guerra di Spagna nella scuola non si era mai parlato, ovviamente. Poi la musica. La musica, loro frequentavano l'Adriano che era la Santa Cecilia di allora. Era il loggione, quindi si incontravano lì per poi parlare anche d'altro. Anche quello io non avevo, sì, avevo imparato il pianoforte per poterlo suonare in chiesa, ma niente di più di quello. E invece, secondo me, la musica è un veicolo di libertà anche. E poi i libri, la letteratura, questi autori americani che in Italia non c'erano nelle mie case nemmeno, insomma, nella mia casa in particolare. Cioè, in Italia c'erano soltanto, non si potevano vendere, quindi chi li aveva, li aveva e non si trovavano più in commercio. E pian piano, diciamo che all'età che io avevo allora, avevo appena compiuto i 18 anni, si fanno delle scelte continue, perché c'è chi sceglie un tipo di amicizia e chi riesce ad essere permeabile a un modo di pensare e chi invece si chiude e diventa ancora peggio di quello che era. Io evidentemente sono molto curiosa, molto… e poi mi piaceva questa forma di amicizia, di diventare grande con dei rapporti, da un lato protettivi, ma dall'altro anche invece di responsabilità. E così ho passato, perché io sono venuta a Roma nel 41, se non mi sbaglio, quindi negli anni ho visto via via l'evoluzione della città in quel periodo, fino a che la data importante e decisiva è stata l'8 settembre. L'8 settembre io abitavo prima, appena venuta a Roma, alla casa della giovane in via Balbo, che adesso non c'è più. Poi sono andata a casa di questa mia cugina, Anna Enrica Filippini Lera, che abitava vicino a Piazza Vittorio in via Bonarroti. A questo proposito il 7, l'altro ieri praticamente, abbiamo messo la pietra d'inciampo per questo nostro amico che hanno arrestato insieme a noi e che hanno ucciso le fosse erdiatine, Paolo Petrucci. E mi è sembrato finalmente di poter dare una sepoltura a questa persona che è sepolta le erdiatine con il numero preciso di quando l'hanno ucciso, dai numeri delle tombe si capisce il numero dell'estrazione e siccome l'estrazione è arrivata dai morti più recenti a quelli più, ecco lui è stato ucciso fra i primi, quindi così l'unica consolazione per chi la pianta era che quello almeno forse non avrà visto tutto il resto. Quindi così mi sono trovata l'8 settembre, intanto è stata una data shock per Roma perché improvvisamente a Piazza Vittorio abbiamo visto i tedeschi che c'erano perché sono arrivati per tempo ma non si esibivano così, che si sono esibiti con tutte le loro mitragliette e cose a Piazza Vittorio, era tutta circondata. Noi abitavamo molto vicino, io abitavo lì con Enrica che era la padrona di casa, il padre che era un vecchio signore, poi è diventato molto più anziano, è morto dopo la guerra, che lavorava alle poste, anzi aveva l'ufficio postale di Piazza Campitelli. E i miei cugini, il mio cugino Paolo Buffa, che poi dopo ha avuto una storia sua anche, Paolo Petrucci era lì e si nascondeva, poi c'erano altri che andavano e venivano che per fortuna non erano lì quando le SS mi hanno... Io come ho cominciato? Ho cominciato con l'offerta, l'offerta, non so nemmeno mi sono offerta io, me l'hanno richiesto, non riesco nemmeno più a ricordare, di prendere parte a questa mobilizzazione nelle scuole, dando dei volantini agli studenti in entrata, anche perché l'unione degli studenti che si era nel frattempo formata aveva indetto uno sciopero delle scuole superiori e delle università contro l'occupante, soprattutto anche per impedire ai giovani che si rendessero conto che avrebbero dovuto a 18 anni già presentarsi al distretto militare per essere inviati subito nell'esercito di Salò. Già questa era una forma di resistenza che ognuno poteva scegliere di fare o di non fare, perché il bando sempre era addirittura la pena di morte, ma poi la pena di morte non l'hanno mai data per questo motivo, però comunque era un esporsi pericoloso per strade, perché a Roma come altrove, ma molto a Roma, facevano dei rastrellamenti per strada, prendevano tutte le braccia valide, le mandavano fare trincee al sud, e insomma rappresentava un pericolo, sia tenere aperte le scuole, che comunque era un gesto per far capire che Roma non era una città tranquilla, non era una città aperta, anche che poi non si è mai provato se fosse stata dichiarata aperta o no, e quindi mi sono trovata a distribuire questi volantini all'università, da cui siamo scappati dall'esperatoria fascista, perché i fascisti c'erano sempre in queste cose, ed erano anche dei delatori spesso naturalmente. Io dico che bisognerebbe anche fare un pensiero sui tramvieri, perché mi ricordo che quando noi scappavamo c'era il tram che passava davanti all'università, al policlinico, e hanno rallentato e aperto le porte per farci entrare, quindi tutto sommato sapevano bene, perché anche sui mezzi pubblici ripeto, ogni tanto succedevano, e così siamo arrivati a casa e basta, per me era finito lì, fino al prossimo appuntamento. Come funzionava? Andavate a prendere i volantini? No, c'era una distribuzione per… io veramente come l'ho avuti non mi ricordo, certamente qualcuno… c'era una distribuzione molto capillare, cioè erano piccole quantità che finivano a una certa persona, non si sapeva come si chiamava chi te le dava, né da dove l'avrebbe presa, poi si è saputo dopo che la casa del professor Gesmondo, che è stato anche ucciso da Erdiatine, era un luogo di distribuzione della stampa. C'era appunto questa casa dove i corrieri andavano a prendere le cose, poi venivano per rami distribuite. Grazie a tutti! Grazie a tutti!